...su un palco, l'effetto dell'animazione che avete programmato. In Italia è partito un progetto, si chiama ProgrammaFuturo.it, un progetto del MIRU, il Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica, ed è stato un progetto che ha avuto un grosso successo. A dicembre c'è stata la settimana che è stato proposto alle scuole di accedere a questo portale, dove erano disponibili degli esercizi su pensiero computazionale, dove c'erano dei problemi che i bambini dovevano risolvere, problemi di spostamento, ad esempio, degli uccellini, di ingrippersi che dovevano andare a...